Il libro letto, letto tutti i libri, con Gigi ci conosciamo da ormai tantissimi anni e quindi devo dire che sta facendo cose veramente molto molto importanti. Rinnovo tutte le volte il saluto a voi ma anche a Don Gigi e direi che ti saremo sempre come Banca, come Maurizio Zancana, sempre vicini e finché farai queste cose qui saremo sempre con te. Grazie. Buonasera a tutti. Siamo qui per presentare questo libro di Don Gigi, dove i cristiani muoiono, che raccoglie quattro libretti della collana che voi tutti conoscete, Volti di Speranza, che Don Gigi ha creato dal nulla. Sono quattro libri, per chi conosce Don Gigi non ho bisogno di dire nulla perché sapete perfettamente che genere di personaggio è. Se c'è qualcuno che per caso non lo conosce, io direi che è un Monsignore molto strano e molto atipico. Ha una doppia funzione. Se uno lo conosce in segreteria di Stato, nulla da dire, ineccepibile. Passano dalle sue mani documenti molto importanti, tra cui ovviamente anche documenti papali. Poi a un certo punto si toglie le vesti di Monsignore e va in giro per il mondo e diventa un pastore, come direbbe Papa Francesco, che puzza di pecora. Perché puzza di pecora? Perché sta tra il gregge. E quindi diventa una specie di missionario moderno, misto a giornalista, è un cronista eccellente, va in giro per il mondo a raccontare storie, che poi ci porta, ci dona in questi piccoli libretti. Sono storie che non hanno nulla a che vedere con statistiche, con analisi politiche, sociologiche. Lui va al cuore del problema, cioè va a toccare la carne di Cristo nelle persone che soffrono. Possono essere in America Latina, possono essere donne maltrattate, possono essere in Africa, possono essere, come è questo caso, in una zona del mondo dove i cristiani sono perseguitati, ma non solo i cristiani. Lui ci racconta delle storie umane. Quello che mi ha colpito dal primo momento in cui ho letto il suo primo libretto, di cui parleremo alla fine di questa serata, è stata proprio questa capacità di farci sentire col cuore la sofferenza delle persone che lui mano a mano conosce in giro per il mondo. Questi quattro libretti parlano di quattro tappe di un pellegrinaggio, due in Kenya, uno per incontrare il vescovo di Garissa che fu vittima di un attentato e riuscì a salvarsi miracolosamente, ancora in Kenya, a Garissa, per toccare con mano quello che era successo a 148 ragazzi ammazzati in un campus universitario solo perché erano cristiani. Poi ci porta in Iraq, un paese dove avanza lo stato islamico, e finalmente in Palestina, per toccare proprio da vicino col cuore, con le mani, la sofferenza non solo di cristiani ma anche di musulmani e di ebrei. Quindi questi sono i quattro libretti, diciamo così, che Don Gigi ha raccolto in questo libro dove i cristiani muoiono e dove l'aspetto che credo verrà fuori anche questa sera è che è vero che in questo momento c'è una persecuzione dei cristiani, come a volte ha detto Papa Francesco, sono più perseguitati oggi che all'inizio del cristianesimo. È vero che parliamo di una zona del mondo dove dopo la prima guerra mondiale i cristiani erano circa il 20% della popolazione e oggi sono solo il 4%, però, però, però in spagnolo, però Don Gigi parla anche delle persecuzioni degli altri, possono essere musulmani, possono essere yaziti, perché purtroppo molte volte la violenza colpisce giustificandosi con il nome di Dio, ma non solo i credenti in Dio, diciamo, nel nostro Dio, se no anche in quelli di altre religioni o minoranze. Quindi abbiamo, diciamo, attraverso Stefano, attraverso Esma, avremo la possibilità di vedere, di entrare più a fondo in queste quattro storie con delle ottiche mano a mano diverse. Credo che possiamo passare al primo video.